La prima ospite, la dottoressa De Miro, prefetta di Reggio Emilia. Lei dovrà sedere al centro, impegnativo. Non comincio a preoccupare. Io volevo fare per ciascuno degli ospiti un jingle o una dedica, solo per alcuni di loro, lo farò per problemi di tempo. Ma permettetemi di cominciare con la lettura di alcune pagine dedicate alle donne che combattono per la legalità. Durante la mia prima visita a Washington, come procuratore capo dei tribunali per i crimini di guerra alle Nazioni Unite, qualcuno avrà già capito chi parla, mi sono rivolta a uno degli uomini più potenti della Terra per chiedergli un aiuto. Questo accadeva un mercoledì pomeriggio della fine di settembre del 2000. Avevo bisogno che forzassero la mano di stati non collaborativi come la Serbia, la Croazia e il Ruanda. Io avevo bisogno che ci aiutassero a ottenere materiale di prova e soprattutto avevo bisogno che ci aiutassero ad arrestare latitanti. Imputati di crimini di guerra. La sede di questo specifico incontro era adiacente alla Casa Bianca. Un assistente accompagna me e i miei consulenti attraverso il portone d'ingresso. Colonne decorative che fingono di sostenere tanti architravi. Attraversiamo un corridoio che rimbomba dei nostri passi. Poi entrando in un ufficio come tanti ci troviamo faccia a faccia con il potere. Il potere aveva le spoglie di George Tenet, il direttore della CIA. Tenet è oberato di impegni. Dieci anni dopo l'invasione del Kuwait, le sanzioni economiche hanno distrutto la vita di centinaia di migliaia di iracheni. Saddam Hussein ha il potere e forse Tenet sa che nell'arco di qualche settimana la folla invaderà le strade di Belgrado. Quello di cui ho bisogno è che Tenet coordino le attività della CIA con gli sforzi del nostro ufficio per aiutarci a catturare uno degli uomini più riciccati al mondo, Karadzic. Tenet commenta che Karadzic gli ricorda un po' un capo mafia siciliano. A me non sfugge l'ironia. Io di boss mafiosi so qualcosa. E Tenet con quelle sue origini greche trassuda una passione mediterranea, una forza di volontà autoritaria tipica dei capi mafia siciliani. Mi assicura che la CIA è attivamente impegnata nella caccia all'uomo, ma che per mettere le mani su Karadzic il compito è impervio. Di gente così ne sto inseguendo in tutto il mondo. Ci abbiamo messo sette giorni per trovare Noriega. Poi butta lì il nome anche di Bin Laden. E poi aggiunge Karadzic è la mia priorità numero uno. Wow! Sono elettrizzata! Vittoria! Non avrei dovuto essere tanto ingenua. Confido che George Tenet faccia seguire i fatti alle parole e non immagino che stia innalzando quello che io chiamo il muro di gomma. Spessissimo quando si rivolge noi, ci si rivolge a gente di potere, qualche richiesta o qualche domanda sgradita, le parole rimbalzano. Ti sembra di sentire quello che vorresti sentirti dire. Potresti persino avere la sensazione che il tuo sforzo abbia prodotto qualche risultato concreto. La mia carriera ha avuto inizio con una lunga serie di collisioni con il muro di gomma. Collisioni seguite talvolta da forme di resistenza più rozze, quando non da minacce fisiche. L'autrice di questa memoria è Carla Del Ponte, che è stata capo procuratore del Tribunale Internazionale Penale Internazionale per i crimini di guerra. Dottoressa De Miro, benvenuta a Reggio Emilia, lei è qui da tre anni. chiedere alla prefetta della città qual è la sua relazione con il potere significa davvero entrare nel cuore dell'argomento. Che cos'è che l'ha spinta a scegliere una carriera così? In effetti, un po' è la vita che sceglie per noi, anche se poi in mondo siamo sempre noi che scegliamo quello che vogliamo. Io ero molto brava all'università. Mamma mi avrebbe voluto notaio. Ho provato anche a frequentare per due mesi la pratica notarile e poi sono andata via. Capivo che non era il lavoro per me. Io non ho neanche voluto fare l'avvocatura. Sentivo che dovevo diventare un civil servant. Questo lo dico per noi siciliani. Entrare nella pubblica amministrazione è un fatto di orgoglio. È importante. Servire lo Stato, servire l'ossatura di quello Stato che è bene comune a tutti noi. Ecco, questo è quello che ho avuto in mente. Volevo fare il magistrato. Poi in effetti ho avuto la fortuna di entrare in questa amministrazione. E me ne sono subito innamorata. Ho dimenticato l'idea originaria di fare il magistrato e mi sono innamorata di questa amministrazione perché è una grande amministrazione. Un'amministrazione che è orientata a garantire i diritti. E i diritti è quindi la democrazia, la legalità. E allora lì, ecco, c'è spazio per poter anche coniugare, se si vuole, la propria competenza istituzionale con la passione civile. C'è questo spazio per chi vuole sentire l'emozione di realizzare attraverso una propria competenza anche veramente fortemente il bene della comunità. Ecco, io questo lo sento forte. Sarà una questione di DNA. Sono cresciuta con un papà, mamma insegnante, molta amata agli studenti, papà archeologo che ci ha insegnato a volare alto. Quindi a, diciamo, non guardare ai fatti convincenti ma a impegnarci per un lavoro che produca qualcosa di importante. La tutela del patrimonio archeologico per mio padre non era soltanto la tutela, la valorizzazione del tempio della concordia piuttosto che del ritrovamento archeologico a cui lui si dedicava, ma era un impegno morale perché doveva garantire la trasmissione di quella conoscenza all'umanità, ai posti. Allora, noi siamo cresciuti in famiglia con questa, respirando questa atmosfera di servizio. Poi ognuno sceglie la propria strada. Io ho scelto di fare, ecco, non avevo passione per l'archeologia, però mi è rimasto ecco questo, questa passione. Grazie. Lei è obbligata a sedere al centro? Lei è obbligata a sedere al centro? Quindi il potere è servizio per me, ecco. E questo, se vogliamo dire cos'è il potere è servizio. Deve sedermi al centro, va bene.